Scusate per il ritardo ma aspettavamo dei dati certi e aspettavamo per non sovrapporci la conferenza di pseudo dimissioni del segretario del PD che l'ha proprio capito, aspetta di essere certo che non mi ha fatto un governo, non mi rimettere. Dopodiché, dai dati che abbiamo è una vittoria storica del centrodestra ma in particolare è una vittoria storica della Lega, è una vittoria storica nel senso che la Lega è di gran lunga il primo partito della regione Lombardia, l'affermazione della Lega è anche al di là di quello che erano le nostre speranze, evidentemente l'ottimo lavoro di Matteo Salvini e l'ottimo candidato a governatore della regione Attilio Fontana hanno fatto la differenza, noi registriamo che il candidato di Matteo Renzi in regione Lombardia, il signor Gori risulta non pervenuto, stiamo ancora aspettando da parte di Gori un cenno di sopravvivenza, lo cerchiamo, lui ha detto che ci ha cercato per tanti giorni in campagna elettorale, eravamo sempre reperibili, adesso lo cerchiamo noi ma spiegabilmente oggi non è reperibile lui. Speriamo che nelle prossime ore di un cenno quantomeno di buona creanza chiamandoci per riconoscere la sua evidente sconfitta. A letto di questo il primo step per quanto ci riguarda come Lega è di carattere politico e programmatico e riguarda l'accordo firmato questa settimana dal governatore del Veneto, dal governatore dell'Emilia e dal governatore uscente della regione Lombardia e mi riferisco alle conseguenze del referendum di autonomia e di questo accordo che per noi è fondamentale. Ci aspettiamo da parte del Partito Democratico e da parte dei 5 Stelle un atteggiamento coerente con quello che è stato il loro atteggiamento in regione Lombardia dove a parole hanno sostenuto tutti quanti il referendum di autonomia, dove il governo uscente ha firmato questo accordo, ci aspettiamo che il prossimo, non governo ma il prossimo Parlamento lo scandisco bene, il prossimo Parlamento ratifichi in tempi certi questo accordo che è stato sottoscritto a seguito di milioni di persone che democraticamente hanno espresso la loro volontà per l'autonomia, per avere maggiori competenze e maggiori risorse sul territorio. Registriamo da questo voto che è tornata in Lombardia la politica con la P maiuscola, le liste civetta, le liste farlocche, le liste inventate all'ultimo momento per cercare di rubare voti lasciano il tempo che trovano, risultano sostanzialmente non pervenute o non rappresentate in Consiglio regionale, quindi per quanto ci riguarda grazie a Matteo Salvini e a Tiglio Fontana attorno alla politica con la P maiuscola e onoreremo i nostri programmi fino in fondo. Ovviamente non vogliamo parlare qua oggi di giunta perché dobbiamo aspettare i dati e capire quali sono i rapporti di forza, l'unica cosa che possiamo dirvi è che punteremo su valutazione di carattere di meritocrazia, di capacità, di esperienza per dare risposte politiche e programmatiche su quello che abbiamo detto in campagna elettorale sulla falsariga di quella che è stata la conferenza stampa di Matteo Salvini di questa mattina. non vi nascondiamo la nostra assoluta soddisfazione e felicità ma con molto programmatismo lombardo guardiamo già al giorno dopo per metterci a lavorare, per dare le risposte che inseguiamo da tanto tempo e che riteniamo che in questo mandato di legislatura regionale e nazionale possano trovare finalmente meritoriamente la luce. Io adesso lascerei la parola al nostro nuovo governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana.